Buonasera a tutti e benvenuti in questo spazio virtuale organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv, grazie a voi tutti di essere qui. Il terzo appuntamento, quello di quest'oggi, di una serie dedicata a Napoli, alla cultura napoletana, alla napoletanità, in un percorso che ci aiuterà ad appiccinarci all'appuntamento del 2022 che vedrà la città e l'isola di Procida come capitale italiana della cultura. Abbiamo scelto una guida che per noi è un onore e un privilegio avere insieme questa sera e Mello del Gatto, che ci conduce in una guida d'eccezione, che ci condurrà in questo percorso. I primi due appuntamenti sono stati dedicati a due aspetti importanti della cultura napoletana, la canzone e il teatro. Quello di quest'oggi è un appuntamento molto particolare che appena mi è stato proposto da Mello del Gatto ha suscitato in me immediata curiosità e a cui Mello ha dato il titolo di Napoli insolita, quindi la nostra guida ci condurrà a scoprire alcuni aspetti poco conosciuti della città e della cultura napoletana. Vi ricordo, per chi avesse perso gli incontri precedenti, che sono entrambi disponibili sul canale YouTube dell'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv, come sarà disponibile anche questo incontro di quest'oggi a partire da domani, quindi per chi volesse rivedere o per chi volesse inviare il link degli incontri passati, di quello odierno a qualcuno ovviamente siete e benvenuti, insomma potrà farlo tranquillamente. Vi preannuncio che stiamo cercando anche con la collaborazione di Nello di poter creare un seguito a questa serie di incontri in autunno, un progetto su cui stiamo lavorando e su cui vi terremo informati. Due parole sul nostro ospite, Nello del Gatto è un giornalista e uno scrittore, in questo momento è un corrispondente da Gerusalemme per l'Agenzia Giornalistica Italiana, autore e conduttore di programmi radiofonici per Radio 3 Rai. È un napoletano doc ma vive da anni all'estero mantenendo ovviamente saldissime le sue radici campane. ha lavorato per molto tempo all'estero, è stato all'ufficio stampa della presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, poi sei anni in India come corrispondente dell'ANSA, successivamente a Shanghai sempre con lo stesso ruolo. È autore di diverse pubblicazioni, diversi documentari come dicevo, di diversi libri e ha studiato storia del cristianesimo e delle religioni in filosofia dell'India e dell'Estremo Oriente all'Orientale di Napoli. Quest'oggi quindi ci condurrà attraverso questo percorso cui abbiamo dato il nome di Napoli insolita e ovviamente tutti voi siete invitati se volete a intervenire dopo la presentazione di Nello Del Gatto ponendo domande o attraverso la chat di Zoom, dell'applicazione Zoom o diciamo attivando il vostro microfono se volete direttamente e intervenendo nella discussione e siete ovviamente tutti benvenuti. Quindi grazie ancora Nello Del Gatto per questa sua disponibilità, per il parere accettato il nostro invito e prego Nello a te la parola. Grazie direttore, grazie a voi di essere venuti, grazie anche per il piacevole riscontro delle altre volte, insomma, da ambasciatore della napolitanità nel mondo non posso che essere soddisfatto, contento e orgoglioso di tutto. Spero che almeno per ottobre, per l'autunno, insomma, comunque dopo l'estate, per il prossimo incontro ci vediamo di persona perché magari è anche meglio se riusciamo ci facciamo pure una pizza insieme che non è male, insomma, che è una di quelle cose che manca poi tra l'altro a livello sociale nel luogo dove viviamo perché io fino ad ora non ho ancora trovato una buona pizzeria ma di questo poi ne parliamo successivamente. Oggi, appunto, penso di fare questo viaggio attraverso una Napoli un po' meno conosciuta, una Napoli insolita, perché Napoli non è soltanto la città del sole, del mandolino, della sfogliatella e della pizza, ma è anche una città di tradizioni antichissime e alcune veramente molto strane. Che noi siamo un popolo, per esempio, di superstiziosi, oramai, insomma, non è che ve lo devo dire io. Tra l'altro la mia famiglia paterna e originaria di Torre del Greco, che è la patria del corallo e dei gammei, e camminiamo tutti quanti col cornettino di corallo appresso, proprio a dimostrazione di questo. Ma faremo un viaggio proprio per una Napoli un po' diversa. Non a tutti conosciuta, però puoi svelarvi qualche cosa che spero non sappiate e che vi possa poi incuriosire per anche un viaggio a Napoli adesso che si potrà cominciare a fare. La prima cosa, ecco, il direttore Rugirello diceva io sono la guida. Io invece oggi comincio a parlare della vera guida, visto che stiamo parlando anche, siamo anche nell'anno dantesco. La guida di Dante è da Virgilio, come ben sapete, ma non tutti sanno che Virgilio ha un legame incredibilissimo, passatemi questo termine, con Napoli. Questo è l'epitaffio che si trova sulla tomba di Virgilio, che pochi sanno è a Napoli. Perché Virgilio ha speso gran parte della sua vita nella città partenopea. Non a caso Dante, quando deve farsi accompagnare da Virgilio nell'inferno, comincia questo percorso nei pressi di Napoli. Quello che ancora meno persone sanno è che Virgilio in effetti viene a Napoli al di là dell'aspetto così, diciamo, letterario, perché poi a Napoli è dove scrive alcune delle sue opere più importanti, ma viene a Napoli per studiare un tipo di filosofia particolare neoplatonica. Il padre fosse appassionato di filosofie, insomma, un po' strane, potremmo dire. Pensate che diventa talmente dentro il mondo napoletano che per un periodo di tempo il patrono di Napoli non è San Gennaro, ma è Virgilio. Virgilio, a Virgilio si collegano dei fatti incredibili, come per esempio la costruzione delle terme di Baia Pozzuoli, oppure la perforazione della cripta neapoletana che sarebbe questa grotta che praticamente taglia parte da Napoli verso Pozzuoli, sopra la quale poi c'è anche il parco virgiliano dove c'è la tomba di Virgilio e poi successivamente hanno messo anche quella di Leopardi. Come vi ho detto è stato sin dall'inizio molto amato dai napoletani, tant'è vero che riconoscevano in Virgilio delle doti di mago e di taumaturgo, addirittura pare che abbia liberato la città da una invasione di mosche, abbia addirittura tolto delle paludi, facendo diventare poi verdi delle zone della città. Per cui i napoletani lo hanno invocato al loro protettore. Probabilmente aveva aderito, sapete, al neo-pitagorismo, insomma. In quel momento Napoli, o meglio ancora vicino Cuma, era una delle capitali della filosofia, insomma una capitale filosofica. C'erano moltissimi di questi filosofi e di questa scuola molto particolare che legava tra l'altro elementi magici, i numeri, a tutta una serie di cose. Un'altra storia che lega Virgilio a Napoli è quello che vedete al centro, il Castel dell'Ovo, questo grande castello che trovate nel centro del Golfo. Si secondo la tradizione, su quell'isolotto andò a morire, se vi ricordate la prima puntata che abbiamo fatto, abbiamo parlato della canzone napoletana e di questa sirena a Partenope che appunto si trova a morire spiaggiata su questo posto perché Ulisse non aveva voluto ascoltare il suo canto. Ebbene, lì creano questo castello del mare nel quale vive l'anima di Partenope. Virgilio avrebbe messo nelle fondamenta di questo castello un involucro di vetro con un uogo. Questo è l'involucro di vetro, questa caraffa era chiusa a sua volta in una scatola metallica. Ebbene, la promessa era che non sarebbe successo mai nulla se questa caraffa sarebbe rimasta intatta. Ecco perché il castello poi prende il nome di Castel dell'Ovo. Durante il XIV secolo, al tempo della regina Giovanna I, però il castello subì ingenti danni a causa del crollo parziale dell'arco sul quale è poggiato. E per evitare che nella popolazione si scattasse il panico, perché ormai sapevano questa storia dell'uovo, la regina dovette giurare di aver sostituito l'uovo, di aver sostituito tutta la cosa esterna per fare in modo che non succedesse niente a nessuno. In verità, secondo alcuni, quest'uovo rappresenta un po' l'uovo filosofico, l'esoterico Atanor, un po' l'oro alchemico. In quel periodo infatti c'erano molte di queste ricerche alchemiche a Napoli. Proprio sull'isolotto lì, l'isolotto di Megaride, si racconta che si facessero questi esperimenti. Tra l'altro nell'isolotto di Megaride erano state messe anche le ossa di Virgilio che poi i normanni tolgono, per cui ci fu una grossissima rivolta fino a quando poi non furono portate in questa tomba che vedete qui in basso a destra, che è appunto la tomba di Virgilio sul parco virgiliano. Quindi altro che guida, soltanto semplice guida di Dante, oppure grandissimo scrittore di opere incredibili come l'Enei e delle Bucoliche e le Geogiche. Virgilio è stato un grandissimo napoletano, anche se di origine di Mantova. Quando stava a Brindisi, perché insomma è andato in viaggio verso Brindisi e sentiva vicino alla morte, appunto chiese di essere riportato. Il mago di Napoli è l'uovo. La faccia gialla la conoscete tutti quanti, ma Napoli è la città del sangue, urbs sanguinis. Perché? Perché quello che non molti sanno è che a Napoli non c'è solamente il miracolo della liquefazione di San Gennaro. Noi se le cose le dobbiamo fare le facciamo bene. Per cui San Gennaro liquefa il sangue tre volte l'anno. Ma c'è una santa, perché le donne lo fanno sempre meglio degli uomini, che ogni martedì mattina e il 25 di agosto scioglie il suo sangue, che è Santa Patrizia. Santa Patrizia si trova nella chiesa di San Gennaro e poi vi faccio vedere. Nella stessa chiesa abbiamo pure un'ampolla del sangue di San Giovanni Battista. Nella Basilica di San Lorenzo Maggiore, che non è molto lontano da quella di Santa Patrizia, il 10 agosto si liquefa invece il sangue di San Lorenzo, mentre quello di Santo Stefano si liquefa il 3 agosto e il 26 dicembre a Santa Chiara. A Santa Maria della Mercede, o della redenzione dei cattivi a Chiaia, il 2 agosto si scioglieva il sangue di Sant'Alfonso, mentre quello di San Luigi si scioglieva il 21 giugno nella chiesa del Gesù Vecchio. Oltre a questi ci sono delle storie che raccontano la liquefazione del sangue di San Pantaleone. Ma parliamo del prodigio che tutti quanti conoscono a livello mondiale. Il sangue di San Gennaro è una cosa, insomma, che unisce i napoletani in giro per il mondo. Accade il 19 di settembre di ogni anno. La data è quella della decapitazione di Gennaro. Pochi sanno che Gennaro, vescovo, non è mai stato vescovo di Napoli, era vescovo di Benevento. Infatti a tal proposito vi racconto un piccolo episodio. Qualche anno fa, tre o quattro anni fa, il Napoli, grandissima squadra di calcio, doveva andare a giocare a Benevento, perché il Benevento stava pure lui in sede A. Vanno a giocare a Benevento e la sede prima e poi il giorno dopo allo stadio, un bello striscione dice San Gennaro, ricordati di chi sei figlio, perché San Gennaro è nato a Benevento. Il Napoli in quell'occasione vinse 5 a 0. La partita di ritorno a Napoli, i tifosi del Napoli misero un altro striscione che fu scritto i figli sono di chi si cresce, i figli sono di chi se li cresce, a dimostrazione del fatto che San Gennaro aveva scelto la sua famiglia adottiva più che quella di origine. Comunque San Gennaro, come ho detto, vescovo di Benevento, fu decapitato sotto Diocleziano il 19 settembre del 305. Ecco perché si festeggia il 19 di settembre. Ma secondo la tradizione durante la sua esecuzione, perché gli fu tagliata la testa a Pozzuoli, una donna di nome Eusebia riuscì a raccogliere del sangue che pose in un'ampolla, che è appunto quella che vedete lì sotto. Dopo l'editto di Costantino, questa ampolla fu traslata da Pozzuoli a Napoli nelle catacombe sotto Capodimonte, una delle colline di Napoli. Ci sono appunto queste catacombe molto molto importanti che vi invito a visitare perché sono particolarmente interessanti. Non sappiamo esattamente quando avvenne per la prima volta questo miracolo. Secondo molti in verità il miracolo non è tanto il fatto che il sangue si liquefi o si liquefa, ma al contrario che ritorni allo stato solido. Quella è la cosa più insomma difficile. Perché se è vero che qualcuno dice che è il movimento, anche quando poi continuano a muoverlo il sangue ritorna allo stato solido. Noi ovviamente non possiamo sapere che quello è il sangue di San Gennaro perché nessuno mai ci ha dato le analisi del sangue di San Gennaro fatte all'epoca. Sappiamo però che questa ampolla fu trovata appunto nelle catacombe di San Gennaro in un'otre dove c'è scritto Januario appunto con delle ossa e questa ampolla. Quindi si presume che sia il sangue di San Gennaro. È stata analizzata in maniera spettrografica perché non è stata mai aperta l'ampolla per tirare il sangue ed è stato visto che si tratta di sangue umano, almeno quello. Vi dicevo che però il sangue di San Gennaro non si scioglie soltanto il 19 settembre ma anche il 16 dicembre perché il 16 dicembre è l'anniversario della terribile eruzione del Vesuvio del 1631 e la prima domenica di maggio c'è un'altra liquefazione del sangue. In questa occasione tra l'altro dalla cattedrale di Napoli che è dedicata alla Madonna Assunta c'è una grandissima processione con i busti dorati di tutti i 52 compatroni di Napoli. Al primo posto c'è appunto San Gennaro, poi c'è la Madonna Assunta, poi c'è Sant'Antonio. Tra l'altro c'è un'altra storia interessante su questo fatto perché San Gennaro è stato anche, come Virgilio è stato per un periodo il patrone di Napoli, San Gennaro ha perso il primato del patrone di Napoli perché fece un tradimento ai napoletani. Quando nel 1799 le truppe francesi entrarono a Napoli, a gennaio il generale Championet, quindi cacciarono i Borboni, il generale Championet obbligò il cardinale di Napoli dell'epoca a cacciare le ampolle del sangue. Pare che all'epoca ce ne fossero due di ampolle, una insomma che si faceva e un'altra invece che era quella reale. L'idea dei francesi era quella di, come dire, prendere, essere autorizzati dal santo. Quindi se avessero fatto il miracolo, insomma si sarebbero sentiti autorizzati in quello che stavano facendo. E San Gennaro fece il miracolo. Nello stesso anno, 1799, l'esercito borbonico che era guidato da un cardinale, il appunto si chiamava l'esercito della Santa Fede, i sanfedisti, entra in Napoli, libera Napoli dai francesi e restaura i Borboni. Da quella volta i napoletani, che si ricordavano del fatto di San Gennaro, tolsero San Gennaro come patrono e misero Sant'Antonio, perché il 13 giugno è la festa di Sant'Antonio. Ecco perché a Napoli molti napoletani si chiamano Antonio. In verità il santo di Padova, che poi sapete era portoghese, nato all'Isbolo, a Napoli non c'è mai stato. Eppure è molto venerato per questo motivo. Ed è il terzo in ordine gerarchico compatrono della città di Napoli. Ah, una cosa prima volevo dire, vedete, questo bronzo sulla destra, in alto a destra, questa è la faccia di San Gennaro, chiamata faccia gialla. Perché? Perché col fatto che tutti quanti hanno toccato, hanno diventato insomma di questo colore. Per cui le donne che pregano a San Gennaro e che invocano il miracolo, o come dice qualcuno, lo esigono questo miracolo, lo appellano dopo, faccia gialla, faccio miracola, faccia gialla, muovete, fai presto. Vi dicevo che le donne lo sanno fare meglio. Ecco, a destra potete vedere la strada di San Gregorio Armeno, che poi è la strada dei pastori di Napoli. Quello che vedete in fondo, quello è l'arco appunto dove c'è la chiesa di Santa Patrizia. Santa Patrizia, poco sappiamo di questa donna. Sappiamo che nacque a Costantinopoli intorno al 664 d.C., veniva da una famiglia nobile e le fu imposto il matrimonio. Però lei voleva rimanere vergine, per cui decise di fuggire a Roma per ricevere la benedizione di Papa Liberio. Tornata poi in patria per la morte del padre, lasciò il palazzo reale e i diritti sulla corona imperiale e distribuì la parte di eredità ai bisognosi. E si cominciò ad incamminare verso qui, verso la Terra Santa, perché voleva pregare sul santo sepolcro di Gerusalemme. Ma durante il viaggio in mare fu sorpresa da una tempesta e la fece naufragio, indovinate dove? Sull'isolotto di Megaride a Napoli, lo stesso di Virgilio, lo stesso di Partenope, dove fu accolta da una comunità di monaci basiliani che stavano lì dove c'è il Castel dell'Ovo e per causa di una malattia morì a soli 21 anni. Subito cominciò il culto di questa giovane vergine, fu portato prima in un monastero e poi nella chiesa di San Gregorio, di San Gregorio Almeno, dove fu creata poi una comunità di suore che appunto venera ancora oggi, si chiamano le patriziane, che venera ancora oggi questa santa. Il primo miracolo di cui si sa è quello di un cavaliere che aveva grosse sofferenze e vuole andare a pregare sulla tomba appunto di Santa Patrizia. Pregò incessantemente tutta la notte senza staccarsi dalla deliquia, spinto da una grandissima devozione, aprì l'urna dove c'era il corpo della santa e cavò un dente dalla vergine. Dalla bocca della santa uscì tanto di quel sangue, ma tanto di quel sangue come se il corpo fosse vivo. È lì che fu raccolto questo sangue in delle ampolline che oggi vengono custodite e Santa Patrizia che fa il miracolo come ho detto ogni martedì, dai napoletani è considerata la protettrice dei singoli in generale, in particolare delle donne e quindi sono moltissime, se voi andate nella chiesa di Santa Patrizia, sono moltissime le ragazze che vanno lì a chiedere di trovare un buon marito. Però considerata anche la protettrice dei naviganti, per il fatto appunto che fece quel viaggio, delle partorienti e dei bisognosi perché come vi ricorderete vi ho detto che aveva lasciato, aveva lasciato le sue ricchezze ai poveri. Questa è una cosa della quale pochi sanno. Quello che vedete sulla sinistra che sembra un palazzo, il palazzo di una famiglia nobile, in verità era nato come tale perché era il palazzo Sanseverino costruito per volere di Roberto Sanseverino, principe di Salerno, nel 1470. Quando nel 1547 il vicere Don Pedro de Toledo, a cui via Toledo a Napoli, tentò di introdurre a Napoli l'inquisizione, ci fu una grande sollevazione. I Sanseverino si misero contro questo e subirono pesante ritozioni dagli spagnoli, proprio perché aveva appoggiato questa rivolta, per cui furono confiscati tutti i beni, compreso questo palazzo che fu dato all'ordine dei Gesuiti, che tra il 1584 e il 1601 lo trasformò in una chiesa. Questa chiesa è la chiesa del Gesù Nuovo. A Napoli c'è anche quella del Gesù Vecchio, che sta un po' più avanti. Questa chiesa del Gesù Nuovo si trova nella piazza dove c'è anche la Basilica di Santa Chiara, quella famosa del Chiostro Maiolicato. La cosa incredibile è di questo bugnato che vedete vicino come copertura della facciata del palazzo chiesa, perché insomma non è una cosa particolare. La chiesa dentro tra l'altro è stata fatta da uno dei più grandi architetti del Settecento, Ferdinando Fuga. La chiesa fu anche distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. In verità non riuscirono a distruggere del tutto, perché una bomba è caduta nella chiesa ma non è esplosa. Se voi oggi andate nella chiesa trovate esposto questa bomba che è caduta da un aereo. E tra l'altro nella chiesa c'è anche il corpo di uno dei santi più venerati di Napoli, quel San Giuseppe Moscati medico santo che abitava poco più lontano da lì. Qualcuno dice che questo bugnato faccia diventare questa chiesa una sorta di porta alchemica. Perché? Perché vedete sono tutti dei singoli, delle singole piramidi e quindi messe insieme, no? Creerebbero una energia particolare. Quello che però ha colpito sempre l'interesse degli indagatori dell'occulto, chiamiamoli così, più che altro questi segni che vedete sotto il bugnato. Nessuno è mai riuscito a capire cosa sono. Qualche anno fa, qualche anno fa, uno storico dell'arte, un certo Vincenzo De Pasquale, si è fatto aiutare da un studioso musicologo ungherese, un certo Rez, per cercare di capire che cosa significano questi resti, tutti questi tratti lì vicini. Secondo loro sono delle lettere derivate dall'aramaico che, traslitterate in un certo modo, danno una melodia. Per cui questa facciata sarebbe in verità un grandissimo spartito musicale. Mettendo insieme tutti questi elementi che voi vedete sul bugnato, tutti questi segni, da sinistra a destra, quindi a sinistra c'è un liceo, dal basso verso l'alto si crea una combinazione di una melodia che dura quasi tre quarti d'ora. Poi magari vi mando anche il link di questa musica suonata che secondo questi studiosi è una musica particolare che dimostra proprio l'origine alchemica di questa chiesa. Chi è stato a Napoli? Sicuramente un passaggio qui l'ha fatto. Ci troviamo a Piazza San Domenico Maggiore, non lontano da dove eravamo prima, e questa è la cappella che Raimondo di Sangro, principe di San Severo, volle, come dire, realizzare in maniera ancora più bella per tutta la sua famiglia. Nel 1590, secondo alcune tradizioni, la Madonna sarebbe apparsa sul muro di cinta del giardino dei di Sangro, nel pallarolo palazzo che sta non lontano dalla cappella. La Vergine si sarebbe manifestata ad un uomo che stava per essere condannato. Quest'uomo promise alla Vergine di donarle una lampada d'argento e un'iscrizione qualora fosse stata riconosciuta la propria innocenza. In verità fu scarcerato e lui tenne fede al voto. E così l'immagine di questa Vergine diventa meta di pellegrinaggio. E pare che fece anche dei miracoli, perché Giovanni Francesco di Sangro, duca di Torre Maggiore, chiese la guarigione per una ragazza e per questo creò questa cappella. Fu però suo figlio, Giovanni Francesco Alessandro di Sangro, patriarca di Alessandria, che intraprese nel 600 i primi lavori di questa splendida cappella. Fu però, come vi ho già detto, Raimondo di Sangro poi ad ampliarla e farla diventare il capolavoro che è oggi. Guardate, sulla Cappella Sansevero potremmo parlare soltanto su questa per ore intere. A noi ci interessa un po' l'aspetto meno noto della Cappella, per cui io mi fermerò soltanto su qualche opera che potete vedere nella Cappella. Perché all'interno della Cappella Sansevero, il viaggio all'interno della Cappella Sansevero è un viaggio iniziatico. Tutte le opere rappresentano qualche cosa. Lo stesso Raimondo di Sangro, il principe di Sansevero, era un alchimista, un massone. Infatti il pavimento della Cappella sul lato destro è un pavimento a scacchi, come si usa nelle logge massoniche. Ha tutta una serie di simboli che bisogna andare a vedere ad uno ad uno. Io mi voglio soffermare solamente su tre opere particolari. Ecco, la prima, questa a sinistra, il Cristo velato, del quale vi faccio vedere solamente una parte, è una delle opere più belle al mondo. Non c'è che dire. La cosa incredibile è che non l'ha fatta un grandissimo artista, ma l'ha fatta un giovane pastoraio. Faceva i pastori. Giuseppe Sanmartino faceva i pastori e si cimentava anche nelle opere scultorie, ma era conosciuto principalmente per quello. In verità l'opera doveva essere fatta da un altro, però insomma, da Antonio Corradini, però non riuscì a farla e quindi insomma il progetto passò a Giuseppe Sanmartino. Quello che è particolarissimo è che voi vedete che c'è questo velo sul volto di Gesù. È un unico pezzo di marmo, anche se sin da quando è stata creata questa opera, da quando è stata resa nota, si è sempre parlato di un processo alchemico creato dal principe di Sansevero, cioè un processo di marmorizzazione, per cui lui avrebbe messo un telo sul corpo scolpito di Gesù e attraverso questo processo alchemico avrebbe creato, diciamo, il velo di Gesù. Invece poi da studi effettuati anche recentemente, insomma, si è dimostrato che è un unico pezzo di marmo. Quindi resta questa incredibile grandezza dell'opera di San Martino. Le altre opere di cui voglio parlarvi, perché insomma sono particolarmente interessanti, sono questa qui con la rete, vedete, si chiama Il disinganno, ed è stata realizzata da Francesco Quedolo ed è dedicata al padre di Antonio Di Sangro, al padre di Raimondo Di Sangro, Antonio Di Sangro. Questa rete, anche questa, è un unico pezzo di marmo e rappresenta, quando la moglie di Antonio Di Sangro, la mamma di Raimondo Di Sangro, muore giovane, che Raimondo ha pochissimo tempo, Antonio Di Sangro, insomma, diciamo, si dà una vita un po' dissoluta. A un certo punto della sua vita, però, di tornare in sé, addirittura, prende anche i voti. Per cui quest'opera sta a significare proprio questo momento, diciamo, nel quale lui si toglie questa rete che lo blocca, che lo vincola. Quella a destra, invece, si chiama La pudicizia di Antonio Corradini ed è dedicata alla madre di Raimondo Di Sangro, che morì nel dicembre del 710, meno di un anno dopo dalla nascita del figlio. Anche lì, vedete, c'è quella pietra tagliata sulla destra a metà e c'è questo velo che, infatti, Corradini era lo stesso che avrebbe potuto fare il, come si chiama, il Cristo velato, quindi ha usato la stessa tecnica del velo. E quel taglio simboleggia appunto questa vita spezzata di questa donna. Quello che poi è interessante è quello che vediamo sotto, le cosiddette macchine anatomiche. Per anni si è disquisito di cosa fossero queste macchine anatomiche. Rappresentano tutto il sistema linfatico e venoso del corpo umano. Sono di un uomo e di una donna. Fino a qualche tempo fa si pensava che Raimondo Di Sangro, che tra l'altro aveva anche inventato alcune cose, aveva inventato pure una specie di traghetto, e aveva anche rifatto il miracolo di Sangro Gennaro, si pensava che lui avesse preso due servi e li avesse uccisi iniettando l'oro dentro delle sostanze che poi hanno indurito il loro sistema venoso. Invece si è scoperto da poco che, a parte la testa, cioè il cranio e qualche ossa, in verità sono tutti filamenti di ferro e il Raimondo Di Sangro, il principe di Sansevero, e i suoi hanno realizzato questo sistema venoso perfetto, ricostruendolo con tutti questi filamenti di vari metalli. Quindi immaginate quanto sia stato un grande anche nelle scienze, oltre che nelle questioni alchemiche. Ma la Cappella Sansevero è sicuramente qualche cosa che non si può non visitare. In una cava di tufo nel quartiere della Sanità di Napoli, da secoli i napoletani si rivolgono alle anime pezzentelle per chiedere delle grazie. Queste anime sono quelle del purgatorio, quelle cioè che non hanno ancora avuto la grazia di essere stati ammessi al Paradiso. Ci sono circa 8 milioni di resti, cioè i resti di circa 8 milioni di persone, principalmente teschi e tibie, e sono appartenuti ad appestati, a morte per carestie, morti per tumulti, malattie, avvenute a Napoli nel corso dei secoli. Come avviene questa cosa? La gente va in questo cimitero. Napoli è una città costruita sul tufo, ecco perché vi ho fatto vedere la cava di tufo. Vedete, qui sulla sinistra sono tutti tibie, per esempio. La tradizione vuole che i napoletani vadano in questo luogo e adottino una capuzzella. Cioè, prima se la portavano anche a casa, la pulivano, la veneravano, la sistemavano e chiedevano a questa capuzzella una grazia, ma cose piccole, non cose molto grosse. Se questa capuzzella faceva ottenere la grazia, perché non è la capuzzella che dà la grazia, ma la capuzzella intercede presso il Signore per far ottenere la grazia al richiedente. Se la capuzzella concedeva, se tramite la capuzzella veniva concessa la grazia, allora chi aveva chiesto questa grazia forniva alla capuzzella la tomba, insomma, la casa eterna, questa qui che vedete in basso a destra, che poteva essere di marmo, poteva essere di vetro, che si chiama scarabattola. Questo fatto ha portato a diventare il luogo una sorta di culto parallelo. Tant'è vero che ci sono stati editti reali, leggi, anatemi, divieti della Chiesa, ma il culto non è mai finito, è sempre continuato. E ci sono tutta una serie diversa di ex-voto che vengono portati. Qui, per esempio, vedete, ci sono le monete, ma c'è, per esempio, chi chiede di non fumare più e allora porta le sigarette. Oppure, per esempio, c'è quello che dice, vedi, io sono venuto, sono venuto a chiederti la grazia e lascia il biglietto dell'autobus sulla testolina, sulla capuzzella, per dimostrare appunto che è arrivata, la devozione che ha verso questa capuzzella. Questa cava di tuffo viene utilizzata già dal XVII secolo e tra l'altro dentro ci sono solamente tre bare, così come le possiamo conoscere noi, che sono di tre dignitari napoletani. Il resto, invece, sono tutti questi resti di persone dei quali non si sa assolutamente nulla, se non che sono morti nei secoli a causa di pestilenze o di altro. In particolare quelle della peste del 1656 e di quella del colera del 1836 durante la quale poi anche Leopardi muore. Grazie all'opera della parrocchia vicino fu riaperta al culto, ma tre vescovi precedenti a questo chiusero proprio perché non volevano che questo culto delle capuzzelle che appunto si va di chiedere il rinfresco dell'anima, ecco perché ha rafrescio l'anima a rupriatore, perché si chiede il rinfresco. Una volta che quest'anima ha fatto ottenere la grazia viene rinfrescata, viene messa appunto nella sua scarabattola. Alcune leggende dicono che sotto il pavimento ci siano una serie infinita di altre ossa o che qua dentro si facevano i giuramenti della camorra, per esempio. E nella tradizione dei napoletani, vi ho detto che i napoletani ognuno adotta una di queste capuzzelle e ce ne sono due o tre che sono particolarmente venerate. La prima, per esempio, è Donna Concetta. Questa Donna Concetta la riconoscete subito, tra l'altro tutti quanti sanno dove sta, perché è un teschio miracoloso in quanto trasuda. Voi la trovate sempre bagnata. Cioè, la sua scarabattola con tutti gli oggettini, insomma, di devozione, ma è sempre umida. Dice Donna Concetta è il sud. Poi c'è la bambina, c'è questa teca di vetro di questa bambina piena di giocattoli. La gente poi nel corso dei secoli ha portato tutta una serie di giocattoli. Oppure c'è quella del capitano. Il capitano ha una storia molto molto interessante. Una giovane donna andava sempre a pregare il capitano per avere marito. Trova questo marito e lei continua la devozione verso il capitano. Ma lo sposo non la capiva, questa devozione, verso il teschio. Allora, quando va lì accompagna questa fidanzata al cimitero delle Fontanelle con un bastone, infila questo bastone nella cavità dell'occhio del teschio del capitano. Il giorno delle nozze durante il ricevimento si presenta un invitato sconosciuto con una divisa militare. si avvicina allo sposo e gli mostra a un certo punto il suo corpo che non era che non era fatto di carne. Secondo una leggenda il capitano vedendo il capitano in questo modo lo sposo muore. Secondo un altro si spaventano soltanto ma non ma non non muoiono. Sta di fatto che ancora oggi il culto delle anime del purgatorio è uno dei culti più diffusi a Napoli. Voi dovunque andate in giro per la città soprattutto la parte vecchia troverete una serie di edicole votive nelle quali vedete tutte queste come possiamo dire queste figure che escono dalle fiamme e queste fiamme sono appunto le fiamme del purgatorio e queste 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 anime sono quelle che cercano di uscire dal purgatorio per andare nel paradiso e non è soltanto non esiste soltanto quello delle fontanelle è il più grande cimitero del genere ma ce ne sono altre c'è la chiesa di la media purgatoria ad Arco c'è San Piero ad Aram a Ercolano ce n'è un altro ci sono anche una serie di confraternite è una visita veramente interessante sia dal punto di vista architettonico perché la cava di Tufo è incredibile sia dal punto di vista diciamo del culto ed è facilissimo trovare persone che vanno lì a pregare queste capuzelle c'è un santo poi tra l'altro molto venerato perché lì siamo nel quartiere della sanità è San Vincenzo che viene detto il monacone perché San Vincenzo è stato un monaco insomma e lì c'è questa nella stessa nella stessa parte cioè nella stessa quartiere c'è sia questo cimitero delle fontanelle sia le catacombe sotto la chiesa della sanità che vi invito ad andare a visitare perché sono veramente interessanti dal monacone al monaciello il passo è breve innanzitutto parliamo di questa signora sulla sinistra questa signora sulla sinistra è la bella Ambriana quando entrate in casa di un napoletano soprattutto di un napoletano diciamo Dantan magari la casa aveva uscito tutti quanti ed entrate quando si entra bisogna sempre salutare a bella Ambriana che è un po' il nome tutelare di ogni casa ovviamente noi non abbiamo una rappresentazione della bella Ambriana quello che vi ho rappresentato è uno dei pastori che potete trovare a San Gregorio di Armeno pare che la parola Ambriana derivi dal latino meridiana che vale a dire proprio l'ora più luminosa del giorno e tal'altro il nome di una delle famiglie più importanti perché ha dato anche delle persone nobili a Napoli gli Imbriani derivano proprio dal culto della bella Ambriana nelle case di Napoletano di una certa età trovate spesso per esempio che una sedia viene lasciata vuota che è la bella Ambriana perché è chiaro che bisogna tenerla in considerazione perché lei protegge la casa il gecko è l'animale della bella Ambriana per cui a casa di Napoletano non si caccia mai il gecko perché il gecko è l'animale che accompagna la bella Ambriana anche perché all'epoca dava ovviamente tutto è legato sempre a una credenza popolare perché il gecko è quello che mangia le zanzare è chiaro che insomma serviva anche per non prendere malattie ma la bella Ambriana è l'emblema proprio di come dire della della positività che si può trovare in una casa a differenza invece della bella Ambriana abbiamo sulla destra la Yanara che non a caso prende ha un nome simile a quella del di di Gennaro perché è la parte sacra è la parte profana la parte santa è la parte demoniaca pare che derivi da una come dire sbagliata traslitterazione del nome di Diana della dea della caccia ecco perché la Yanara sarebbe una una strega che vive all'aperto e che insomma si 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 trova facilmente nelle campagne ma soprattutto aveva l'abitudine secondo la tradizione o meglio quello che mi dicevano le mie nonne e anche mia madre per costringermi a dormire che la Yanara aveva l'abitudine di introdursi nelle case per spiare chi ci abitava e soprattutto guardava i bambini dormire perché fondamentalmente lei voleva diventare mamma ma non c'era mai riuscita ecco perché allora quando noi volevamo dormire sempre la nonna oppure la mamma diceva a corte perché viene a Yanara tra l'altro al culto della Yanara è legato anche sono legati anche i culti carnevaleschi di cui parlavamo l'altra volta teatrali non a caso il nome è anche legato al gennaio al mese di gennaio di febbraio quindi insomma a tutti quei culti particolari legati alla tradizione del carnevale napoletano nel quale ci sono una serie di figure vedi Zezza per esempio che non hanno neanche sesso che sono insomma molto particolari ma vi dicevo dal monacone arriviamo al monacello chi è il monacello quando andate a caso di napoletane e manca qualche cosa si dice sempre è stato monacello ma com'era avevo messo gli occhiali qua sopra e non ritrovo è sapiato monacello ma come le chiavi che stavano qua è sapiato monacello e io avevo lasciato dieci euro e le prendevo io ovviamente però è stato il monacello sempre così è il monacello è il dispettoso è lo spiritello dispettoso che vive che vive nelle case però a differenza della della Ianara e della Bella Briana il monacello un fondo di verità di storicità ce l'ha pure perché chi erano i monacelli ebbene durante il regno angioino non so se se voi sapete che Napoli era una delle città più avanzate in Europa anche dal punto di vista delle fogne per esempio è stata forse la prima città ad avere un sistema fognario e c'erano queste persone che andavano a controllare i pozzi sia bianchi che neri per controllare questi pozzi dovevano essere piccolini e avevano dei vestiti tipo sai ecco perché il monacello quindi si vedevano camminare con questi con queste come dire con queste questi abiti sporchi in giro perché andavano a fare appunto queste queste pulizie poiché salivano e scendevano ogni tanto qualche cosa veniva veniva persa ecco perché si dava la colpa al monacello poi da persona reale cioè da quello che puliva insomma che si occupava della manutenzione di tutti questi di tutti questi pozzi alla leggenda del monacello insomma le cose le cose sono sono fiorite le leggende le storie per esempio per esempio per esempio c'è questa storia sotto il regno di Alfonso Magnanimo di Aragone il quinto due giovani Stefano e Caterinella erano figli di un ricco mercante si innamorano si incontrano e si innamorano i due però non avevano non avevano avuto l'approvazione dei genitori dei rispettivi genitori per per sposarsi per cui si incontravano sul su un terrazzo buio del quartiere del del mercato il giovane per raggiungere questo terrazzo doveva fare tutta una serie di strade solitarie una volta però purtroppo mentre stava raggiungendo la sua amata fu ucciso la giovane la fidanzata Caterina impazzisce per il dolore e diede alla luce un figlio deforme con il tascolare degli anni questo bambino insomma un po' deforme rimane anche nano perché la madre gli fa cucire questo saio di cui c'è questo saio addosso che gli fa indossare a modi come dire di espiazione di questa di questa colpa ecco perché lo chiamò lo chiamavano il monacello qualcuno pensava che questo monacello avesse anche qualche cosa di magico addosso soprattutto si pensava che se portava il cappuccio rosso che era il dono della madre allora arrivavano buone notizie se invece il cappuccio era nero state certi che avevano delle grandissime sciagure ovviamente a seconda di questo ognuno dava delle grandissime disgrazie attribuiva a questo povero a questo povero monacello però purtroppo quando quando il monacello scomparve perché fu ucciso da un da un parente del della famiglia del padre la leggenda non non scomparve e quindi questi dispetti che mancano i soldi mancano i chiari li farebbe appunto per come dire per protestare contro questa vita triste e sfortunata che ha avuto dopo tutto tutti quanti noi dobbiamo dare delle giustificazioni a quello che a quello che noi non sappiamo è uno spiritello bizzarro insomma che si che si muove per le case dei napoletani come per la bella ambriana come per la yanara come per il monacello napoli è piena di altre leggende e di altri fantasmi per esempio quello che vedete lì a sinistra in alto davanti c'è la certosa di san martino con un bellissimo museo dove c'è tutta la collezione di presepi napoletane del seicento dietro c'è il castel santelmo che è uno dei castelli dei castelli di napoli pare che lì vaghi un fantasma vestito di bianco che spaventi chiunque gli si avvicina anche se è un fantasma giocherellone che ogni tanto esce e voglio dire spaventa a qualcuno tra l'altro lì vicino c'è pure una scalinata che porta appunto dalla parte di sotto fino a quella di sopra e lì ogni tanto si sente lo scherzo oppure l'urlo di questo fantasma quello invece che vedete a destra è Posillipo il capo di Posillipo con l'isola l'isola di Nisida l'isola di Nisida sulla quale adesso c'è il il carcere minorile amato da Edoardo De Filippo dove Edoardo fece molte azioni secondo un antico mito Posillipo era un giovane leggiadro e scherzoso con un cuore molto sensibile che si innamorò appunto di questa ragazza che si chiamava Nisida la fanciulla però aveva un animo gelido un cuore proprio di pietra era una ragazza incantatrice ma malvagia Posillipo non riuscì a come dire a sopravvivere a questo amore per cui decise di suicidarsi allora a quel punto gli dei decisero di trasformarlo nell'isola alla alla giovane Nisida mentre Posillipo fu trasformato nella collina che si trova di fronte apposto per stare vicini e proprio perché Nisida era così gelida e così cattiva l'isola fu fu deciso già dall'antichità che ospitasse omicidi e ladri infatti adesso c'è il carcere cioè le donne non devono mai essere cattive se no fanno per i napoletani fanno una brutta fine un'altra leggenda narrata sia da Croce che da Diumaa racconta che nel fossato di questo castello qui in alto a sinistra che è il castello il maschio angioino ci si fosse un famelico coccodrillo che veniva usato nei confronti di quei prigionieri che dovevano che dovevano sparire pare che questo coccodrillo fosse arrivato dall'Egitto con la regina Giovanna II in verità lei lo sfruttava per dargli da mangiare tutti gli amanti dei quali si voleva si voleva liberare e dobbiamo secondo la leggenda a Ferrante d'Aragona la liberazione da questo coccodrillo perché gli dite da mangiare una coscia di cavallo quello è soffogato ed è morto il coccodrillo del maschio angioino la villa invece che vedete sulla destra qui in alto a destra questa è una leggenda antica ma che si è riverberata fino ai giorni nostri questa villa quella isoletta è l'isoletta della Gaiola sempre lì davanti a Posillipo ed è considerato un luogo di altissima sfortuna anche se la casa immaginate è spettacolare perché affaccia direttamente sul volfo alle spalle c'è Napoli davanti sulla destra c'è Proci Reischia sulla sinistra c'è Capri quindi immaginate che vista i suoi possessori sono stati Gianni Agnelli e sappiamo che ha subito la morte anche tragica di diversi familiari Polghetti il cui nipote ricorderete fu rapito fu rapito dalla dall'andrangheta tra i primi acquirenti ci fu una donna inglese il cui nobile marito si innamorò della cognata la moglie sentendosi tradita lo iniziò ad accusare ferocemente sua sorella freddola al tal punto che la donna si tolse la vita l'uomo per dolore si sparò mentre la moglie impazzì per questo motivo se volete accattare una casa a Napoli non vi comprate la casa della gaiola perché insomma potrebbe è sfortunata insomma porta male quindi non ve la non ve la consiglio perché è piena di attuti se invece volete comprarvi una bella casa comprateva nel palazzo che sta qui in basso a sinistra che è il palazzo Donnanna si trova a Posillipo ma dall'altro lato diciamo verso Napoli non verso Pozzuoli come come la la gaiola immaginate che questo è il golfo di Napoli qui c'è Sorrento qui c'è qui c'è Posillipo qua c'è il Vesuvio questo è il capo Posillipo il palazzo Donnanna sta qui non lontano dal palazzo del presidente della repubblica Villa Rosberi sta un po' più avanti ebbene questo palazzo di Posillipo prende il nome da Donnanna Carafa nipote di Luigi Carafa di Stigliano che acquista la struttura nel 1571 durante uno dei magnifici ricevimenti Donnanna sorprese il suo amante Gaetano di Casapesenne a baciare un'altra donna donna Mercedes de Ias Torres nei giorni seguenti sparisce Mercedes non si sa che fine fa e si ipotizzò che Donnanna l'avesse avvelenato l'anima lasciando il povero Gaetano alla ricerca da allora e se vi comprate casa lo scoprirete i tre spiriti vagano per tutto questo palazzo che è bellissimo perché tra l'altro sembra mai finito invece è una cosa incredibile l'altro palazzo invece che abbiamo sulla destra è un'altra leggenda fantastica perché è il palazzo Penne chiamato così perché fu fatto costruire da Antonio Penne che era segretario a Napoli di dei Ladislao all'inizio del 1400 questo signor Penne quando è arrivato a Napoli si innamorò di una ragazza la quale però era già corteggiata da altri abbiamo visto con la musica abbiamo visto con il teatro abbiamo visto con il cinema inutile che vi sto a raccontare quanto è importante l'amore per i napoletani c'entra in qualsiasi storia però sta ragazza non non voleva saperne per cui gli disse sai che c'è di nuovo io ti sposo se tu mi costruisci un palazzo in una sola notte allora questo povero signor Antonio Penne per riuscire nell'impresa chiese aiuto al diavolo al quale vendette la sua anima con tanto di contratto scritto il patto era che il diavolo avesse preso la sua anima se lui avesse fatto ergere questo palazzo in una sola notte con una clausola che Penne avrebbe ceduto la sua anima solo se il demonio avesse contato tutti i chicchi di grano che Penne avrebbe sparso nel cortile del palazzo da costruire il diavolo costruisce il palazzo nella notte e fu il momento della prova di andare a contare questi questi chicchi di grano Penne allora che cosa fa sparge il grano ma sparge pure della pece il diavolo quindi gli si attaccarono i chicchi di grano alla mano perché insomma si attaccava con la pece e quindi non li riusciva a contare a quel punto Penne si fece il segno della croce e si aprì una voragine che si può ancora vedere perché c'è un pozzo lì nel palazzo Penne dove il diavolo sprofondò purtroppo però per il signor Penne la donna non ne vuole comunque sapere quindi c'è rimasto solo il palazzo ma dell'amore mi dispiace non c'è stato io vi ringrazio spero di di avervi interessato e di avervi raccontato qualche cosa di particolare su una città che è fantastica in tutti i sensi in questo senso perché c'è delle storie fantastiche grazie grazie Nello il gatto per veramente queste interessanti questi interessantissimi spunti su Napoli in gran parte sconosciuti o poco conosciuti e che sicuramente insomma hanno destato la curiosità di delle persone che hanno seguito questo incontro io direi che ci sono possiamo prenderci dieci minuti per un paio due o tre domande di approfondimento o osservazioni da parte del pubblico quindi chi vuole può segnalare o tramite la chat o può anche dato che non siamo tantissimi può insomma attivare il proprio microfono e prendere la parola per rivolgere una domanda a Nello del gatto nel frattempo che qualcuno ecco c'è la signora Maria Silvera che ha alzato la mano prego io una domanda molto importante ce l'ho soldi no è stato molto interessante a me piace molto Napoli e i napoletani allora quando è che ci vediamo ancora perché oggi è l'ultima puntata ma mi dispiace nel libro del Siracide c'è scritto non sono né profeta né figlio di profeta ma spero insomma che si possa fare si possa fare prestissimo io tanto purtroppo per voi resterò ancora in questo paese per qualche anno quindi insomma non mi toglierete davanti molto facilmente sono sempre a disposizione per qualsiasi cosa proprio con il direttore stavamo discutendo di quando poter fare un altro appuntamento e su che cosa quindi sicuramente lo faremo grazie del suo affetto bene altre domande Federica osservazioni prego ciao Nello spero che tu stia bene senti ti volevo chiedere una cosa la volta scorsa prima di tutto grazie perché è veramente interessante la volta scorsa hai fatto riferimento alle figure femminili nella tradizione del teatro e della recitazione napoletana e quindi la mia è piaccia una richiesta se proseguirete magari se puoi dedicare un'oretta un'oretta e mezzo proprio a queste figure femminili guarda io non sono contrario ti spiego per quale motivo perché non vorrei che mia moglie cominciasse a pensare che diventa importante essendo lei donna napoletana io tutte queste importanze non gliela voglio dare per cui insomma cerco di evitare però poiché me lo chiedi tu qualche cosa lo faremo sicuramente insomma anche perché come abbiamo detto un'altra volta è incredibile il fatto che la primissima attrice del muto italiano è napoletana tra l'altro poi ho fatto altre ricerche ho scoperto l'addittura di Torre del Greve il padre di Tiello si chiamava e mentre invece poi la prima regista era di Salerno anche là non tutti si può essere come dire non tutti possono essere napoletani però siamo tutti quanti la stessa famiglia perché voi sapete che a proposito di Santi c'è purtroppo una competizione fra San Gennaro patrono di Napoli e San Matteo patrono di Salerno non andiamo molto d'accordo noi gennariani con i matteiani insomma abbiamo qualche qualche scontro però siamo tutti quanti figli della stessa della stessa terra quindi va bene così quindi sicuramente grazie del suggerimento lo prendo lo prendo come mio grazie a te c'è anche una cantante interessantissima Gilda Mignonette la quale fa successo negli Stati Uniti con una canzone che si chiamava A Cartolina e Napoli particolare perché dice mi è arrivata una cartolina una cartolina da mia madre che mi ricorda Napoli insomma così lei non riesce mai a tornare a casa a Napoli finalmente ci riesce dopo questo grandissimo successo in America va sul piroscafo mette questa cartolina che ormai è diventato il suo simbolo sull'oblò tipo qualche giorno dopo la partenza muore sul pirosco per cui non riusciva mai ad arrivare a Napoli e di storie di donne importanti a Napoli ce ne sono tantissime a proposito della storia del 1799 per esempio c'è la storia di Eleonora Pimentel Fonseca che è la prima donna in assoluto in Europa a dirigere un giornale il monitore napoletano ed è una donna napoletana che appunto abbraccia le come dire le 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 stanze di questa nuova repubblica di giovani di questa nuova repubblica del 1789 e che a causa di questa di questa sua dedizione alla causa è una dedizione talmente intensa che non chiede neanche aiuto alla regina della quale era amica e viene impiccata tant'è vero che è ricordata in tante canzoni non in particolare dove si dice donna Eleonora prima parlava sul palco adesso le uniche assi dove parla sono quelle lì del diciamo dell'impiccagione a piazza del mercato di storie di donne napoletane ne abbiamo fortunatamente tante grazie prenderò sicuramente il suggerimento bene ci sono altre domande io se posso volevo chiedere a Nello del Gatto avrei veramente tante cose da chiedere comunque fra le cose che più hanno testato la mia curiosità è questo culto delle anime pezzentelle perché è qualcosa veramente di incredibile è un culto parallelo una religione parallela che si sviluppa nel sottosuolo di Napoli qual è la caratteristica delle persone che vanno innanzitutto se tuttora è un qualcosa di frequente cioè vedere un culto ancora attivo diciamo e nonostante le limitazioni a cui accennavi da parte delle autorità ecclesiastiche diciamo e se ci sono delle caratteristiche particolari non so appartenenza ad un certo ceto sociale o ad una zona della città di queste persone che vanno lì ad esercitare questo culto verso le anime pezzentelle mi interessa anche la caratteristica proprio perché questo aggettivo di pezzentelle alle anime allora innanzitutto il posto dove si trovano perché appunto sono nella zona della sanità la sanità è questo quartiere molto particolare di Napoli il quartiere tra l'altro è nato anche Totò che si trova fuori dalle mura di Napoli via Foria era la zona appunto fuori dalle mura ecco perché Foria e dietro c'è la sanità ed era un posto dove c'erano dei lazzaretti si andava lì insomma c'erano degli ospedali e c'erano dei lazzaretti il culto è trasversale tutte le persone io qualche anno fa ho fatto un autodocumentario per la radio su questo e ho scoperto facendo l'autodocumentario che mia madre aveva la sua capuzella che da giovane se la portava pure a casa la puliva ogni volta e chiedeva poi le deve essere andato bene perché sono nato io questo è chiaro insomma quindi questa capuzella poi è stata messa in una scarabattola però mia madre per esempio l'aveva e come lei tante persone a un certo punto non hanno più potuto portarle a casa per cui le hanno tenute lì e le andavano a venerare quando sono andato io a fare questo documentario ho trovato delle persone che andavano a pregare devo dire con una dignità incredibile molti non si volevano manco io andavo per la radio quindi non avevo manco la telecamera insomma soltanto audio ma manco quello volevano farsi riprendere volevano rilasciare di che azione perché è veramente considerato come un luogo molto sacro il culto è trasversale dai ricchi ai poveri dai nobili ai meno nobili chiunque ha avuto questa 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 questo culto pezzentella perché è abbandonata pezzente povera ma povera di spirito non povera di altro perché non ha avuto la possibilità di avere una sepoltura come ce l'hanno avuto gli altri ecco perché la loro intercessione fa sì che poi possano avere questo riposo in questa scarabattola poi andando sul posto capite che una anima una capuzzella ha avuto più risalto più 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 come dire è stata venerata da qualcuno un po' più ricco di un altro perché magari la scarabattola è di marmo molto bella altri invece sono dei semplici oggetti di legno oppure oppure di cartone perché non è importante il tipo di sepoltura è importante che abbiano che abbiano la sepoltura oggi è molto semplice tra l'altro è gestito da un'associazione quindi è gratuito anche l'accesso ci trovate dei custodi simpaticissimi che raccontano che raccontano tutte le storie ma sempre per questo gioco che c'è a Napoli tra quale noi siamo come dire combattiamo la morte perché ce la facciamo amica perché con un nemico faccio pat con l'amico è stato accorto si dice a Napoli insomma quindi col nemico ci fai il patto quindi noi questo sentimento l'addetto si tengono anche degli spettacoli adesso si tengono dei concerti perché poi il posto è fantastico ci sono queste volte incredibili il culto è veramente veramente interessante è qualche cosa di estremamente particolare e la dimostrazione che è importante per Napoli è il fatto che ce ne siano molti in Napoli il cimitero delle fontanelle alla sanità è il più grande ma ce ne stanno altri piccoli mia madre per esempio andava in uno nel quartiere dove stava lei a Secondigliano e poi soltanto qualche volta andavano lì alle fontanelle il mio socio mi ha raccontato che andava a giocare a pallone lì nel posto e tra l'altro in questo cimitero durante la seconda guerra mondiale la gente si andava a riparare perché era un rifugio per le bombe proprio per questo gioco della vita e della morte che continua nel napoletano è un culto molto molto particolare e molto interessante ma per il napoletano il culto dei morti è sempre stato un culto notevole non a caso vi ho raccontato anche la storia della della vedeana questa donna che sta a casa questa anima che vaga oppure del munacello che vaga che vaga per i posti non c'è una sola storia dove non si racconti di un'anima che vaga quello delle capuzelle è forse un modo unico al mondo anche se molti lo avvicinano a quello della santa muerte messicana alcuni antropologi dicono che ci sono delle similitudini fra i due molti perché si trovano solamente poi teschi e tibie perché sono quelli lì più duri insomma le ossa che si riescono a conservare meglio e hanno messo le hanno messe tutte quante così tra l'altro ci sono dei posti incredibili dove si creano proprio delle file di teschi e invece le tibie messe una sull'altra quasi non sembrano reali ecco dà la sensazione di essere un posto un posto irreale invece è ancora vivissimo ed è ancora molto ma molto seguito bene grazie sì c'è Marina che voleva domanda una domanda anzi due domande cioè ancora oggi una la prima domanda se io fedele o volessi andare come si sceglie la capuzella cioè perché ce ne sono tantissime quella più vicina quella come si sceglie uno seconda fino ad oggi si accumulano nuovi teschi e nuove tibie no no adesso è stata fermata la cosa perché insomma questi qui sono tutti teschi e tibie appunto di persone morte diciamo fino al diciannovesimo secolo fino al colera già il colera del 1971 69 insomma 70 in quegli anni là già quello non è non è considerato quindi restano soltanto quelli lì tra l'altro ci sono andando lì vedete che ci sono c'è una parte del pavimento dove c'è il vetro e si vedono che sotto ce ne stanno ancora molti quindi insomma se volessero prenderli da sotto li potrebbero tranquillamente prendere qualcuno dice che non è insi tu a scegliere la capuzella ma è la capuzella che sceglie te sei tu che vieni attirato da quella capuzella ed è quella lì che poi tu adotti alla fine sempre di un'adozione parliamo perché tra l'altro non è detto che poi la stessa capuzella non possa essere venerata da più persone si capisce se la capuzella è venerata da più persone perché si vedono più oggetti messi sopra magari qualcuno crede ritiene che quella capuzella sia più più ascoltata l'ho detto per esempio Donna Concetta se andate a vedere Donna Concetta c'hanno scarabattole incredibili con tutta una serie di collane d'oro di corallo vicino la bambina c'ha un sacco di giocattoli e di altre cose e ci sta invece altre che non se ne fila nessuno queste capuzelle si vede che hanno poco riescono ad attirare poco le persone tra l'altro secondo alcune tradizioni Totò che era una persona molto malinconica che aveva un senso del diciamo dell'occulto e il macabre abbastanza sviluppato nonostante sia il grande comico che tutti conosciamo frequentava molto sia le catacombe che stanno lì vicino di San Gaudioso sotto la chiesa del Monacone sia il cimitero delle fontanelle lì vicino bene io direi che con questa immagine di adozioni fra mondo terreno e mondo ultraterreno possiamo anche insomma che dà un po' il senso del carattere fantastico di questa straordinaria città possiamo chiudere qui questa prima serie di incontri su Napoli e la napoletanità promettendo che ce ne sarà una seconda speriamo di persona quindi non solo sui canali continueremo anche sul canale digitale ma cercheremo di organizzarla anche di persona quindi ringrazio tutti voi per averci seguito e ringrazio naturalmente ancora una volta Nello del Gatto grazie a voi per aver accettato il nostro invito buona serata a tutti e a presto a presto grazie grazie